Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video, mi scuso per l'aspetto ma sono rientrata adesso a casa prima di mettere a posto le cose volevo farvele vedere e quindi sarà un video un po' fatto così volevo mostrarvi gli acquisti che ho fatto da Tiger che finalmente è riaperto e aveva il 50% di sconto allora intanto ho preso un campanellino per la bici che non è per me ma è per mia sorella lì si è rotto il suo quindi l'ho preso, costava veramente una scemenza poi ho preso questo quadernino qua con le ciliegine anche questo era scontato mi sembra era tutto scontato dentro ovviamente è a righe ho preso poi questo quadernino che è tipo gommato mi piaceva un sacco ho preso questo e l'ho preso anche a mia sorella verdino verde acqua con le costoline così delle pagine sempre con il solito disegno della copertina e anche questi a righe poi ho voluto prendere due lecca pentole uno per mamma perché non ce l'aveva e uno per me questi qua costavano 2 euro questi non erano scontati però ho voluto prendere lo stesso mi piacciono molto perché sono in legno con questo pezzettino in silicone e sono molto molto carini poi vabbè ho preso delle spugne per la cucina a 1 euro non sono tantante non so quanto di preciso 10 mi sembra ed infine come ultima cosa i dischetti di cotone che mi servono per la gattina non mi strucco più con i dischetti di cotone però questi qua li utilizzo per lei e quindi niente questi erano gli acquisti che ho fatto da Tiger con gli sconti fatemi sapere se siete passati o passerete anche voi è un video molto molto veloce molto breve io vi saluto se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commento iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao